Io mi sono presa la briga di andare a vedere cosa aveva promesso il ministro Carrozza, la quale pareva che avesse detto qualcosa di concreto in merito all'addicennamento. Scusate, io non uso la parola turnover perché mi dà fastidio che si debba sempre usare l'inglese quando abbiamo un italiano che è meraviglioso. Quindi l'addicennamento nella professione era stato anticipato in qualche modo da Maria Chiara Carrozza con riferimenti precisi, infatti diceva lei e lo diceva il 20 giugno del 2013 che inadeva affrontare l'assorbimento del personale attualmente precario nella scuola, già c'era un'affermazione, e prevedeva 15.000 astinzioni precarie a settembre 2013, 44.000 assunzioni dei precari entro il 2017. E poi confermava l'avvicennamento dicendo che seppur limitata solo 59.000 unità nel prossimo quadriennio, entro il 2013-2014, no, cioè però lì era la proiezione quella delle 59.000 unità in successione, mentre nel quadriennio erano previste 15.000 assunzioni tra docenti e ATA. Poi ancora aggiungeva che cosa? Che nel triennio 2011-2013 questi 15.000 precari sarebbero andati a essere stabilizzati nella scuola. E in più prometteva la stabilizzazione di una consistente fetta di precari del sostegno in maniera che così si potesse provvedere a qualcosa di importante che adesso il nostro precedente relatore ci ha fatto vedere quanto sia importante, quanto sia bello potersi dedicati a questo. Naturalmente questi dati venivano un pochino contestati dai sindacati i quali dicevano che comunque i supponenti rimanevano 130.000 e che quindi la cifra era talmente grossa che ancora si stava risolvendo poco o nulla. Parlava anche dell'assunzione di precariata nel 2012-2013 e questo era il ministro al quale si è avvicinato il nuovo ministro che sarebbe Donorevole Stefania Giannini. Andando a prendere le linee programmatiche di Donorevole Stefania Giannini devo dire che la domanda sorge spontanea come diceva qualcuno perché tutti questi dati che ritrovano non più una certezza ma una promessa consistente non li troviamo più. Proviamo un bel lavoro e una bella lezione pedagogica sui concetti che peraltro già noi della scuola conoscevamo. E allora si dice bisogna provvedere a 24.000 lavoratori XMSU che sono impegati nei servizi di pulizia bisogna dare certezza alla scuola questo è il documento del ministro proprio e siamo tenuti a dare il tempo di dare certezza a tutti una scuola di qualità per tutti poi bisogna valorizzare le figure le carriere professionali bisogna aumentare la retribuzione degli insegnanti bisogna provvedere a nuove modalità di reclutamento poi ancora bisogna vincere il precariato della scuola non possiamo ignorare che scompaia da sé tra l'altra e il docente il precariato della scuola dice il ministro assomma a mezzo milione di persone dunque e quello che lei appunto ancora mette in evidenza è che questo precariato storico dovrà grazie a quello che chiama il turnover cioè all'avvicinamento essere ammesso in ruolo nei prossimi 10 anni così genericamente senza niente di preciso dice più di 460.000 sono le persone inserite nelle graditorie di istituti utilizzate per le supplenze annuali abbiamo 10.000 abilità di interoginio formativo attivo 70.000 hanno maturato titoli di servizio abbiamo 55.000 diplomati magistrali 40.000 idoni di reti concorsi e dice questi precari della scuola nel lungo periodo il lungo periodo mi preoccupano un po' andranno assorbiti poi dice nel medio termine si vedrà di procedere come si può e che poi si propone di creare un gruppo professionale qualificato per la formazione dei docenti e per l'integrazione scusate io sto un pochino tagliando dagli appunti quindi delle volte ho dei momenti di riflessione e bisogna anche provvedere a che si aiutino queste persone a conseguire un titolo di abilitazione in maniera che poi dice nel futuro quando le risorse finanziarie lo consentiranno sto andando ancora a sintetizzare tutta questa gente potrà essere sistemata in maniera che quando avremo stanziamenti certi avremo anche delle certezze mi pare evidente che no, mi pare evidente che lo diceva lei mi pare evidente infine che programmazione significa monitorare quello che è già stato deciso ma non è stato ancora del tutto realizzato quindi lei sta monitorando quello che già prima sembrava deciso la scuola riparte dal decreto 104 del 13 e poi c'è tutta una cosa che ha distrutto il risparmio perché c'è tutta una serie di belle pagine di bella letteratura pedagogica di cose che si devono fare bellissime senz'altro ma che ripeto noi nella scuola abbiamo masticato per lo meno per 40 anni e lì si esaurisce tutto allora domanda ripeto senza nessuna polemica ma il ministro intende porre in essere quanto il precedente ministro già aveva promesso oppure si dà soltanto a delle belle pagine di buoni propositi ottimi propositi un'ultima cosa questa è tutta mia so che parecchi non la condividerete io vorrei anche che il ministero riflettesse di nuovo sulla terminologia perché scusatemi purtroppo sono un vecchio uomo di scuola a me la parola direttore di dirigente non piace per me uno è preside perché preside è sempre scuola dirigente pensate a Ricoli di Cilio, di Mirelli di altre cose grazie 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 grazie